raccontare la vita ai tempi di un like su facebook e di un cinguettio su twitter di una foto e una storia su instagram non è affatto semplice eppure pinuccio figlio proprio del web e della rete c'è riuscito anche per questo allora giovedì è stato piacevole ascoltarlo alla masseria la ma balice mentre dialogava col presidente danisti di puglia piero ricci e il sindaco michele abaticchio nel libro parlo di noi come siamo sui social e tutti quanti secondo me un po si ritroveranno in questo libro purtroppo in cose negative il libro allora mette l'accento sulla felicità tale o presunta che sia ai tempi dei social network di molte identità costruite con immagini e non con sostanza i leoni da tastiera che improvvisamente diventano tuttologi e sottolinea inoltre che le nostre pagine social non siano semplici album ma canali televisivi che devono fare ascolto il tutto spiegato con ironia ed esempi concreti e quotidiani quello che spaventa e come ci si rappresenta lì che spesso diciamo è una realtà molto artefatta e poi sicuramente per un certo punto questo modo di rappresentarsi diciamo esagerato o sbagliato diverso farà i conti con la vita reale e gli psicologi avranno molto da fare nei prossimi anni secondo me